Benvenuti amici in un mio nuovo video. Oggi parleremo di due prodotti molto particolari legati all'audio o comunque alla musica. Di una nota casa di nome Energy System che si occupa prevalentemente di sfornare soprattutto prodotti audio e periferiche da pc. Oggi però ci soffermeremo su due prodotti di questa casa ovvero le Energy System Style 7 che non sono altro che delle cuffie true wireless molto performanti. Inoltre andremo anche a parlare di un altro prodotto che non vi posso mettere qui sopra perché è troppo grande quindi ve lo farò vedere in un secondo momento. Comunque si tratta di una tower, la tower 7 sempre di Energy System ovvero una torre, un impianto due in uno per arredare la vostra casa con stile. Ma prima di parlare dello specifico dei prodotti ovviamente prima. Sigla! Prima di iniziare con il video vi ricordo come di consueto di lasciare un bel mi piace qui sotto in descrizione, di iscrivervi al canale e attivare l'apposita campanellina per rimanere aggiornati su tutti i miei video. Ma ora bando alle ciance andiamo a vedere il primo di questi prodotti. Come potete vedere il design di queste cuffie sono veramente uniche, al tatto veramente morbide, peccato che siano lucide e quindi la custodia cattura molto bene le impronte. Come possiamo vedere non sono cuffie normali perché appunto sembrano delle Airpods anche se sono in ear ma comunque mantengono questa stanghetta che si mettono tranquillamente all'orecchio e vengono incastrate perfettamente. Ovviamente in confezione ci sono anche tutti gli altri gommini per adattarle il più possibile al vostro orecchio. La cosa molto particolare di queste cuffie è il fatto che si possono accoppiare tranquillamente a qualsiasi dispositivo in modo molto semplice senza l'ausilio di applicazione di terze parti oppure di strane macchinazioni con pulsanti eccetera. Ma una volta aperto la scatola il vostro telefono riconoscerà immediatamente le cuffie e potranno essere così abbinate. Sono molto belle, molto comode da portare. Io le ho usate parecchio in questo periodo e devo dire che per il costo che hanno che si aggira intorno ai 60 euro non sono niente male. Durano molto perché l'autonomia della batteria è di 21 ore con la custodia invece di 6 la riproduzione solo con la cuffia, con le due cuffie ovviamente. Hanno sulla parte superiore il controllo tramite soft touch, comunque con un tasto soft touch presente sulla parte superiore. Hanno il controllo per rispondere alle chiamate, per andare alla traccia successiva, alla traccia precedente eccetera. Non hanno la riduzione del rumore attiva ma solo passiva, infatti sono i near. Altra grossa caratteristica è il fatto che hanno un sensore che quando vengono messe all'orecchio fanno partire in automatico la musica, mentre quando vengono tolte la musica sparisce, comunque si ferma. Altra chicca che sinceramente in un prodotto con un prezzo così abbordabile non avevo mai trovato è il fatto che la custodia ha un sistema QI, quindi che cosa vuol dire? Che si può tranquillamente caricare su una base a induzione, quindi hanno la ricarica rapida in sostanza. Davvero molto approvate e ve le consiglio vivamente. Energy System le style 7. Altro prodotto che vi consiglio sempre della stessa marca è una tower, quindi un impianto in sostanza due in uno compreso nella stessa colonna, molto elegante per arredare casa e anche molto performante. Come possiamo vedere dalle immagini, questa tower ha due altoparlanti, un tweet e un sub per arrivare a una potenza di 65 watt, ha una connettività esagerata, potrete ascoltare musica come e quando vorrete, ha il bluetooth 5.0, ha la possibilità di collegare una chiavetta usb, con dentro la musica vengono supportati praticamente tutti i formati, ha la possibilità inoltre di poter inserire una micro SD con caricati i vostri brani preferiti e infine ha anche l'attacco aux, quindi non avrete proprio problemi in assoluto per ascoltare la musica. Altra grande novità è il fatto che all'interno è presente anche un modulo FM che vi permetterà di ascoltare la vostra radio preferite, con la possibilità di fare uno scanning automatico delle frequenze e anche di salvarne 50 tra le vostre preferite, in modo che siano più velocemente accessibili. Rispetto alla versione 5 ci sono due grandi novità. La prima è che non avrete problemi di autonomia del vostro telefono perché sul retro è presente una porta usb, diversa da quella per collegare una chiavetta usb ovviamente, che vi permetterà di ricaricare il telefono tramite il vostro cavo utilizzato normalmente. Inoltre ultima e secondo me fondamentale caratteristica è il fatto che è possibile accoppiare due di queste tower per avere un audio stereo stupendo perché per essere un prodotto che costa all'incirca un centinaio di euro suona molto bene. Bene amici oggi vi ho detto tutto, non è stato un video molto lungo ma ci tenevo particolarmente a farvi vedere questi due prodotti perché li ritengo veramente validi e inoltre li ritengo molto validi all'azienda. Vi chiedo magari di lasciare un commento qui sotto con scritto che cosa ne pensate, se le avete, se le avete provate, se le volete comprare o cose di questo tipo e noi ovviamente ci vediamo nel prossimo video. Ciao da Alex Gambi